Per vincere questo tipo di concorso, essere belli è sicuramente alla base e lei lo è. Virginia Stablum, giovane, bella ed elegante, si è conquistata quella corona tanto agognata e il privilegio di rappresentare l'Italia a Miss Universo, nell'edizione che si terrà probabilmente il prossimo gennaio 2023 in una località ancora però da stabilire. A tal proposito ha detto, sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop e digitale, proprio come piace a me qualificando la donna come portatrice dei valori che vanno oltre l'aspetto. Ha scritto così la Stablum sul suo profilo Instagram, accanto al video della sua incoronazione come Miss Universe Italy 2022 e di cui vi ho mostrato una foto. In effetti mai come quest'anno sul palco del celebre concorso si vive così aria di cambiamento e per la prima volta possono essere protagoniste anche donne sposate, in dolce attesa o già diventate mamme, insomma si esce un attimino fuori dagli schemi. Ma chi è la giovane modella che porterà l'Italia sulle passerelle di Miss Universo 2023? Di lei sappiamo che è classe 1998, che è nata a Trento da mamma italiana con radici tedesche e papà di origini africane. Cresciuta con una passione incredibile per la moda, non ha esitato ad accogliere l'opportunità di potersi lanciare in questo mondo luminoso ma che possiamo dire a tratti crudele. Sfilando tra Milano, Parigi, New York e Barcellona, la sua bellezza non poteva certo passare inosservata. Ma il successo, almeno nel nostro paese, è arrivato per altre vie. Qualche anno fa, infatti, Virginia ha preso parte a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, quindi questo nome non è che sia proprio nuovo e i più attenti sapranno già di chi si tratta. Grazie a Maria De Filippi ha avuto l'occasione non soltanto di farsi conoscere dal pubblico, ma anche di incontrare l'amore. La Stabloom è riuscita a conquistare il cuore di Niccolò Brigante, all'epoca era tronista, e i due sono usciti insieme dalla trasmissione. Certo, la relazione non è andata benissimo e dopo qualche mese si sono lasciati. Ma per una porta che si chiude, si sa, con la storia del portone la conosciamo tutti, no? Quindi ci auguriamo che ritrovi presto la felicità. Da diversi mesi è sorridente accanto a Vittorio Scala, famoso imprenditore ed ex partner di Taylor Mega. A quanto pare la loro relazione andrebbe a gonfie vele, ed è lui ad averla sempre sostenuta in questo percorso che l'ha piano piano portata a giudicarsi l'ambita corona, e non soltanto questo. Virginia è infatti una vera forza della natura, e oltre al suo lavoro come modella internazionale di successo si dedica con passione anche allo studio. È iscritta alla Facoltà di Scienze delle Comunicazioni dell'Università di Verona. E nel tempo libero non perde occasione per poter viaggiare, come fanno tutti i comuni mortali che hanno un po' di soldi da parte, andando alla scoperta del mondo. E questo, signori, per questa notizia possiamo dire che è tutto.